Buongiorno, dottoressa McConnell. L'intero processo è iniziato con il siero Lazarus. L'obiettivo qui è semplice, riportare in vita una persona morta. Ci siamo quasi. Tre, due, uno. Nessun effetto. Forse se aumentassimo il dosaggio la prossima volta... Oh, mio Dio. C'è troppa attività neurale. Che diavolo succede? Duplicheremo l'esperimento. Tre, due, uno. No! Libera! Non la perderò. Pensi di riuscire a riportarla in vita? No! Ciao, tesoro. Sono io. Sono morta. Hai appena subito un trauma. Devi permettere al tuo corpo di guarire. Zoe, ti possiamo aiutare? Non hai idea di quello che avete fatto? The Lazarus Effect. Dal 21 maggio al cinema.